Nuovi contenuti e nuova veste grafica per il sito istituzionale della provincia di Pistoia, sito che è già online. Nuova veste grafica e nuovi contenuti per il sito istituzionale della provincia di Pistoia presentato dall'ente di Piazza San Leone come un contributo alla trasparenza nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini. Un nuovo restyling con le funzioni a seguito della riforma e quindi certamente non era uno degli aspetti principali ma era assolutamente diventato necessario comunque un aggiornamento non solo grafico ma anche in quelli che sono gli aspetti fondamentali di operatività dell'amministrazione. Noi abbiamo puntato molto a valorizzare tutto il lavoro che la provincia di Pistoia ha fatto in questi anni sul territorio, quindi di conoscenza del territorio e quindi ci sono tutte le informazioni relative al territorio della provincia dal punto di vista geografico, dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista delle attività economiche e poi naturalmente ci sono l'accesso a tutti gli atti dell'amministrazione sia quelli di maggior valore come può essere il piano territoriale di coordinamento oppure il bilancio ma ovviamente anche agli atti ordinari che vanno dalle determini ai decreti del Presidente oltre che alle delivere degli organi collegiali. L'ordinanza sulle viabilità e quindi anche in tempo reale sapere se per esempio una viabilità ha delle interruzioni oppure ospecualmente per lavori in corso e quant'altro. Tutto questo fra l'altro con un costo assolutamente pari a zero perché è stato fatto con gli operatori interni di cui sono presenti nell'amministrazione provinciale e che sono effettivamente una grossa risorsa che voglio ringraziare.